Il treno suburbano S7-24720, di Trenord, delle ore 5 e 41, proveniente da Lecco, è diretto a Monza, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S7-24722, di Trenord, delle ore 6 e 15. Proveniente da Lecco, è diretto a Monza, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S7-24724, di Trenord, delle ore 6 e 37, proveniente da Lecco, è diretto a Milano Porta Garibaldi, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S7-24715, di Trenord, delle ore 6 e 59, proveniente da Milano Porta Garibaldi, è diretto a Lecco, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S7-24719, di Trenord, delle ore 7 e 57, proveniente da Monza, è diretto a Molteno, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Costa Masnaga. Il treno suburbano S7-24734, di Trenord, delle ore 9 e 01, proveniente da Multino, è diretto a Milano Porta Garibaldi, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.